La gente come noi non bolla mai, la gente come noi non bolla mai, la gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non bolla mai. Per noi questo è un presidio di regalità, questo è un territorio martoriato, la camore ci mette un attimo per prendersi in braccia. Siamo persone per bene, abbiamo sempre lavorato.